Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma per veicolo in fiamme al chilometro 410, tratto chiuso tra Chiusi e Fabro e due chilometri di coda tra Valdichiana e Fabro. Sempre verso Roma rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze in Pruneta. In direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia e rallentamenti tra Barberino di Mugello e Aglio. In A11 code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa e code tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. In A12 a Pisa Nord chiuso per lavori l'allacciamento tra l'A11 con provenienza Lucca e l'A12. In Fipili verso Firenze è incidente tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sull'Arno e code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandici. Code in uscita a San Mignato e in uscita a Santa Croce sull'Arno entrambe provenendo da Firenze. Rallentamenti tra San Mignato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Ed è tutto, buon viaggio!